ciao a tutti benvenuti nel mio canale allora volevo condividere con voi un momento che mi è piaciuto proprio sono contentissima allora sono venuta qua a Primark perché volevo comprarmi delle scarpe e sapendo che le scarpe da ballo non riesco a trovarli che siano qualità prezzo costano una fucilata lo comprate da amazon e mi sono arrivate proprio un pezzo di cartone non riuscivo neanche a camminare figuriamoci ballare allora ho detto vabbè oggi il mio giorno di riposo ho detto vengo qua a Primark allora sono andata adesso se riesco a trovare il punto vi faccio vedere le scarpe che ho preso non so se provano qua qua questo punto qua allora sono arrivata alla cassa c'erano dei sandali molto carini che mi piacevano sono arrivata alla cassa sorpresa l'hanno scontati costavano 20 euro lo trovate a 8 euro che gioia faccio vedere sono questi qua sono con questa cosa qua è più stabile il tacco è piccolo il tacco è un tacco 8 guardate che belle guardate che belle che sono sono bellissima sono bellissima sono contentissima perché ho preso queste ho preso questi qua sono ovviamente abbastanza più alte saranno un tacco 10 questi qua scontati ok e ho preso questi come quelli che ho comprato color nude l'ho preso in nere perché ho un sacco di vestiti che posso metterli solo con le scarpe nere ma quelle che ho sono troppo alte e non ci riesco a ballare questa qua costa 14 invece questo il tutto 14 10 8 32 euro che gioia non ci riesca a bambi a pentola e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non potrei mai usare, mai dire mai nella vita, anche se i colori sono bellissimi, però mi sembrano, sapete, sandali da, non so, da poco, cioè da, non potrei, sinceramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso costano 4,50 euro, però sono veramente buoni, è un buon tessuto anche per far sport, per stare a casa, sono comodi. Guarda che carine questi maglietti, mamma mia, ma il giallo poi mi sta da dio. Che bella, che bellissima, che carine che ha questi pantaloni. Grazie a tutti. Questo è una figata. E lo specchio dietro è bellissimo per andare, per ballare, è stupendo. Lo spacco, lo spacco, lo spacco cercherò sicuramente di chiuderlo un pochino, fino qua, un pochettino più in giù anche, devo prendermi qualcosa. Bellissimo, scontato a 7 euro, molto bello. C'è questo, molto, molto, molto carino, mamma mia, mi sento che ho delle chiappe flaccide, assurdo. Però molto, molto carino questo, molto. Peccato che non si vede, ho un verde, un verde, un verde acceso, eh. Adoro, 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 mi piace. Questi pantaloni sono stupendi, sono stupendi. Sono un po' stretti sopra, 7 euro. Proprio carini, carini. Ci sono uscita così, con questa giacca di Zara, che ce l'ho da almeno 10 anni, almeno. Uno degli acquisti belli che ho fatto. Invece questo, anche questo di la Zara, è una... Ai Dio mio, mi sento con la pancia. No, non è vero, sto bene. Belli, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, così vi arrivi a tutta la novità. Ciao a tutti, vi voglio un mondo di bene. Invece queste sono le scarpe da ballo, che ho comprato da Amazon. Sono belli da vedere, sono carine da vedere, ma le dita praticamente mi escono dalla scarpa. E poi non riesco a camminare, ballo mentre cammino. Sono carine, ma non gli vale la pena. L'ho pagata i 31 euro, ma mi sa che devo spendere di più. Conizio. Scusi. Bakun dino.